Voi o non voi ragazzi, nonostante siano i primi in classifica, sono anche i primi a muoversi sul mercato Perché sì, il Milan avrà preso qualche ragazzino per l'approdare poi magari nella squadra primavera Perché sì, noi pigliamo un ragazzino a 5 milioni che lo metteremo nell'Under 23 Quindi ancora non in prima squadra Mentre l'Inter ragazzi fa praticamente quasi il suo primo colpo ufficiale Perché ha twittato poco fa Fabrizio Romano che Buchanan, perché se non sbaglio si pronuncia così essendo canadese il giocatore È praticamente quasi ormai un giocatore dell'Inter È già stato trovato l'accordo col Club Rouge 7-8 milioni alla società belga per il giocatore E c'è anche comunque già l'accordo con l'Inter per quanto riguarda l'ingaggio dell'esterno canadese Quindi manca veramente poco ma l'Inter sta per segnare il suo primo colpo di gennaio Prima di tutti si può dire perché ripeto Juve e Milan hanno preso qualcosina, ho letto Ma giocatori giovani dove non vedranno mai la prima squadra perlomeno quest'anno Mentre invece ragazzi, Buchanan è stato preso apposta per sostituire Juan Quadrado Perché l'Inter c'ha Dunfri sulla destra, è vero, Juan carattare Danyan, è vero Anche se Danyan ultimamente fa più il centrale Però Quadrado ha finito la stagione, no? Quindi da quel punto di vista lì forse l'Inter era poco coperta E adesso con Buchanan invece copre il ruolo ormai lasciato da Quadrado Che si è operato e ormai ha finito la stagione Allora, Buchanan è sempre vicino a vestire la maniera dell'Inter Lo conferma anche Fabrizio Romano, esperto di colcio del mercato internazionale con un Twitter Avanzano le trattative tra i due club Sono già stati concordati i termini personali per il contratto a lungo termine del giocatore Spiega Romano Dunque l'intesa sull'ingaggio dell'esterno è già stata trovata Ora manca quella definitiva tra i club Quella definitiva tra i club ragazzi è sui 7-8 milioni Quindi l'Inter sembra che voglia offrirgli questi soldi Perché Buchanan potrebbe già essere disponibile contro il Verona ragazzi Potrebbe essere già disponibile contro il Verona Buchanan Quindi attenzione Andiamo un po' a scoprire questo giocatore qua Che io onestamente parlando non seguendo il campionato belga Non lo conosco tantissimo Deve essere sincero Perché non lo conosco tantissimo È canadese Praticamente è un'ala destra All'altro ci si trova qua su Transfermark come posizione Ma penso che sia un giocatore che possa fare tutta la fascia Classe 99 quindi non è vecchio assolutamente Ha 24 anni è molto giovane C'è ancora una carriera davanti Non è una promessa Perché comunque al giorno d'oggi per essere una promessa Deve essere un 2005-2004 C'è giocatori molto molto giovani Sono di questa età qua Però decisamente classe 99 comunque ragazzi Non rimane vecchio E diciamo che l'8 febbraio ne fa 25 Quindi è un'età via di mezzo Ecco è una via di mezzo L'età è alto comunque 1,83 quindi c'ha una determinata altezza Non male E ha vinto nella sua carriera Un campionato di Belgio Con appunto il Club Rouge E ha vinto anche comunque Vincitore della Supporters' Shield Sarà la Coppa Belga Non lo so ragazzi Perché io non sono molto esperto Del campionato Belga 8 milioni il valore di mercato di Buchanan Quindi l'Inter praticamente lo va a pagare Quel che costa Non lo basta da pagare Non lo va neanche comunque a risparmiare Paga 7-8 milioni Quindi il prezzo del cartellino L'Inter pagherà quello È un'ala destra ragazzi Però all'occorrenza Transfer Market dice che può fare anche Il terzino destro E può giocare anche a sinistra Alla sinistra Quindi è un esterno A tutta fascia Che ti può fare anche l'altra fascia Quindi un giocatore molto duttile Per questa Inter Che c'è già tanti giocatori duttili Quindi molto molto interessante Andiamo a vedere il rendimento Di Buchanan Da quando è praticamente Nel mondo del calcio Del professionismo Quello professionista Ha fatto praticamente Quest'anno Se non sbaglio Ha fatto 20 presenze In totale 3 golle 4 assist Sono numeri Più da difensore Secondo me Che da terzino Andiamo a vedere il rendimento Nel dettaglio Perché comunque È curiosa La statistica da guardare Ovviamente Non deve avere I numeri Chissà Che eclatanti Parliamoci chiaro Non deve essere un attaccante Questo che deve segnare Assolutamente no Cioè Deve essere Deve essere comunque Un giocatore Un giocatore Di spinta Che ti fa qualche gol E qualche assist Comunque quest'anno Ragazzi 3 gol Medi presenze E 4 assist Non sono pochi Cioè Non sono pochi Secondo me Nel senso Ha fatto Abbastanza bene Ecco perché Secondo me L'Inter L'ha docchiato Andiamo a vedere Il bilancio complessivo No Veramente Da quando Buchanan Nel mondo Del calcio A livelli importanti Cosa ha combinato Questo giocatore E poi vi dico Semplicemente La mia Non è un colpo Eclatante Però è un colpo Che ti fa capire Quanto è sveglia La società Inter Che appena ha bisogno Appena ha un buco Da qualche parte Loro sono già pronti Via via A sostituire Cioè Questo fa una grande squadra È una grande società Marotta Ragazzi Del resto Questo è Lo sappiamo Allora Buchanan Da quando Nel mondo Del calcio A livelli importanti Ha fatto Totali 134 presenze 17 gol Quindi ragazzi Segna E 23 assist Per un totale Di 882 Minuti giocati Ed è un giocatore Che comunque Ha giocato ovunque Ragazzi Perché da centrocampista Di destra Ha fatto 30 presenze Di cui 6 gol E 4 assist L'esterno Si può dire l'esterno Se vogliamo Più o meno Il terzo di destra Ha fatto 25 partite 4 gol E 5 assist L'ala destra L'ha fatta 19 volte Con 1 gol E 7 assist Il centrocampista Di sinistra 18 volte 2 golle E 2 assist Questi qua Sono i 4 ruoli In cui io ho giocato Molto molto di più Poi ha giocato 3 volte Dalla sinistra Che non ha fatto nulla 3 volte Da terzino sinistro Che non ha fatto nulla E pensate un po' Una volta Ha anche giocato Dalla trequartista Con una presenza E in quella presenza Ha siglato Anche un assist Per me Un giocatore interessante Ovvio Ha 25 anni E non è mai uscito Da quel palcoscenico Importante A parte il Belgio È l'unico campionato Si può dire Importante Buchanan Che ha avuto Il campionato importante So quello lì Del Belgio In Italia Un'altra roba Però sono curioso Di vederlo In Champions League Comunque le sue 6 presenze L'ha fatte E sui 2 assist Li ha fatti E quindi comunque È un giocatore Che comunque ha giocato In Champions Ha giocato in Confidence Comunque conosce anche L'ambito europeo E staremo a vedere Ragazzi Quindi Buchanan Sta per diventare Un nuovo giocatore Dell'Inter Fate sapere un po' Voi ragazzi Qui sui commenti Voi interisti Cosa ne pensate Del giocatore Lo conoscete L'avete visto giocare Nel campionato belga Perché magari voi Seguiti dei campionati Che io Onestamente parlando Sia per tempo Che per Anche forse interesse Non devo ammettere Non mi interessa E non l'ho seguito Quindi Se voi l'avete seguito Fate sapere un po' Com'è questo giocatore Lasciate un bel like Se comunque vedete Che altri video Del calcio mercato Perché sapete iniziare E quindi si ricomincia Col calcio mercato A portarvi i video E soprattutto ragazzi Anche sui piacere L'iscrizione al canale Che è fondamentale Non costa nulla E per me Con questo supporto Basta per cliccare Su iscriviti E Siete iscritti E soprattutto Ringrazio di cuore Condividete anche i video Con i vostri amiciazioni Con loro E attivatevi le notifiche Così non perdete Il prossimo video Che usciranno In descrizione Vedete anche il link Le barri sui channel E link anche Degli altri Profili social Qui da me che è tutto Ragazzi Bella L'internet è già attiva È già attiva